Come è andato questo incontro con l'assessore Veri? Ci sono spiragli per lo svolgimento di un concorso e per la stabilizzazione di queste persone, di questi lavoratori che da tanti anni ormai lavorano all'interno degli ospedali? Diciamo che oggi è stato fatto un primo grande passo in avanti e abbiamo ottenuto per quanto concerne l'ASL di Chieti un avviso pubblico di un anno a tempo determinato senza preselezione attraverso un colloquio. Presumiamo che tutti quanti i partecipanti entreranno in graduatoria. L'altra cosa che siamo riusciti a ottenere è un concorso pubblico regionale capofila l'ASL di Teramo, adesso in difficoltà perché è stato verificato che la struttura di Pesaro dove si doveva svolgere il concorso pubblico non è a norma e quindi stanno contrattando la sede della Fiera di Roma. Questo è dovuto al fatto che sul concorso pubblico ci sono circa 8.000 domande per cui vi è la necessità di trovare delle strutture idonee per lo svolgimento del concorso. Quindi rispetto alla situazione di oggi che vede questo personale esternalizzato, vittime di contratti capestro presso cooperative ditte esterne, questo passaggio, questo primo passaggio verso una reinternalizzazione all'interno della struttura pubblica, noi non possiamo che ritenere un grosso passo in avanti. Abbiamo sollevato il problema concernente alla premialità Covid che ha visto delle premialità nel pubblico impiego che vanno dai 500 euro fino a un massimo di 2.000 euro. Il problema da noi sollevato è che questo personale che è stato scafandrato, si dice, nell'ambito di tutti i reparti di emergenza e urgenza, quindi pronto soccorso e reanimazione, di fatto non si sono visti riconosciuti queste premialità e non si capisce come questo sia possibile. È chiaro che noi non ne facciamo solo un problema squisitamente economico, noi parliamo di dignità del lavoro. Il lavoratore pubblico scafandrato che giustamente si è visto riconoscere questa premialità non vedo perché debba essere negata al dipendente privato che ha lavorato con questo dipendente gomito al gomito per far fronte alla pandemia.